Beh, io ho tanti ricordi di Davide Astori, non soltanto come calciatore ma anche come uomo. Dico sempre che l'immagine che più mi è rimasta impressa è quella di quando l'ho incontrato in Borgogni Santi mentre passeggiava con il passeggino e sua figlia, come un qualunque papà innamorato della propria bimba e innamorato della città nella quale vive. Questo è il Davide che mi piace ricordare, oltre ovviamente all'immagine che lui ha sempre avuto di grande calciatore, di sportivo leale, di capitano responsabile, capace di coniugare l'amitezza con la passione, la tenacia di sportivo. Io vorrei rispondere ai genitori di Davide che ho conosciuto, a cui rivolgo un abbraccio fortissimo da parte di tutta la città e il mio personale. Vorrei dire loro che possono stare tranquilli che la nostra città non dimenticherà mai Davide, il loro Davide ma anche il nostro Davide. che stiano certi che noi non smetteremo mai di urlare il suo nome allo stadio, non smetteremo mai di raccontare cosa ha fatto Davide e chi è stato Davide, a chi non l'ha conosciuto, ai nostri bambini e non smetteremo mai di legare.